Questa mattina i carabinieri di Taranto, coadiuvati dai reparti specializzati NAS e NIL e dallo squadrone eliportato Cacciatori Puglia e dal nucleo carabinieri cinofili di Modugno, hanno effettuato un blitz nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso sulla statale 106. Arrestato un 41enne tarantino sorpreso a disfarsi di una pistola con matricola brasa, mentre invece denunciati altri due soggetti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per porto illegale di Armandataglio. Il nucleo antisofisticazione e sanità ha controllato 11 aziende, delle quali 8 sono risultate prive di condizioni igienico-sanitarie e strutturali, tali da garantire la corretta conservazione dei prodotti ortofrutticoli freschi destinati a essere immessi sui mercati provinciali. Le aziende verranno quindi segnalate alla sloionica per i provvedimenti di competenza, sul momento invece alle stesse sono state contestate violazioni amministrative per un importo di 8.000 euro. Il nucleo ispettorato del lavoro invece ha monitorato 10 aziende, di cui 5 sospese per lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare su 26 dipendenti controllati, 15 sono risultati irregolari e uno in nero. Complessivamente sono stati denunciati in stato di libertà sei datori di lavoro, ai quali sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per un totale di 82.500 euro e ammende per un importo complessivo di quasi 154.000 euro. Denunciati due lavoratori risultati in debiti per settori di reddito di cittadinanza per un importo totale di circa 23.000 euro.